La voglia è quella di correre. La squadra è fatta di nomi importanti, credo che arriveranno dei buoni risultati, benché con l'incertezza e la discontinuità riscontrata durante questo anno particolare abbiamo la consapevolezza di non essere al meglio delle nostre reali possibilità. Però il talento c'è, ripeto la voglia di dareggiare anche quindi con fiducia. Dopo gli europei le ragazze osserveranno un periodo di riposo nel quale erano preventivate delle vacanze che però in me non ci saranno e quindi sarà un riposo diciamo a casa. Dopodiché con l'inizio di dicembre si ricominceremo gli allenamenti a Montichiari con una frequenza bisettimanale fino a metà gennaio non sono previsti raduni su più giorni quanto appunto una frequenza continuativa durante le settimane. Sì in effetti era un problema se si vuole anche banale che però ha avuto delle lungaggini non preventivate quindi la notizia positiva è sicuramente che può ricominciare ad allenarsi e lavorare senza problemi con continuità quindi l'obiettivo è Tokyo. a 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 Grazie.